Oggi viene intitolata questa piazza a Giorgio Gaber, un personaggio che ha rappresentato la cultura italiana, anticonformista, se vogliamo anche un personaggio che è andato contro le regole. Ecco, perché una piazza a Giorgio Gaber? Ma proprio per quello che hai detto tu, ha rappresentato molto nel panorama culturale italiano, è stato un artista di grande visibilità a cui molta parte delle persone della mia generazione, non solo perché Andrea Scanzi è molto più giovane di me, ne hanno tratto idee, ne hanno tratto stimoli per la loro crescita culturale, quindi mi pareva giusto, su indicazione, su un desiderio espresso da Andrea Scanzi, ma che lui ha espresso sicuramente, e ve lo dirà lui personalmente, a nome di tanti, che fosse intitolata da Rezzo una piazza a questo artista e gliel'abbiamo dedicata in questo luogo che è fisicamente legato al Teatro Perrarca. Da qui si vede il Teatro Perrarca, dove peraltro io ho visto Giorgio Gaber rappresentare negli anni 90 un bellissimo spettacolo, Giorgio Gaber che in maniera del tutto incidentale, ma che mi piace sempre ricordare, ho conosciuto anche personalmente. Un grande rapporto di stima, di amore, di rispetto, di ammirazione legava Giorgio Gaber ad Andrea Scanzi, Andrea che gli ha dedicato anche il primo spettacolo. Sì, devo dire che di Gaber parlo tanto, forse secondo qualcuno ne parlo pure troppo, ma me ne vanto, io ho conosciuto, ho visto la prima volta a teatro Gaber quando avevo 17 anni, nel 91 a Fiesole, l'ho visto tante volte a teatro, l'ho conosciuto, l'ho intervistato, abbiamo accenato spesso insieme, mi sono laureato su di lui, sarebbe venuto come correlatore alla mia tesi proprio qui ad Arezzo nel 2000 se non fosse stato malato e poi come hai ricordato tu, da nove anni ormai dedico a lui uno spettacolo che ho raccontato e ho fatto a teatro 200 volte. Perché? Perché secondo me è stato uno dei più grandi pensatori del 900 Giorgio Gaber, era un uomo che ti costringeva a pensare, era un uomo che ti costringeva a riflettere, era un uomo che aveva il coraggio delle proprie idee e delle proprie azioni ed era anche un uomo che aveva il coraggio di essere fischiato dal suo stesso pubblico, perché sapeva che gli intellettuali a volte devono essere scomodi. Per tutti questi motivi puoi e potete soltanto immaginare la gioia totale che provi nel vedere una piazza dedicata a lui nella mia città a due passi dal Petrarca che era a casa sua, quindi è davvero un giorno bello per me ma credo per tutti gli aretini e secondo me il resto d'Italia dovrebbe prendere lezioni da noi perché tutte le città italiane dovrebbero avere una via dedicata a Giorgio Gaber.